Sì, bentrovati a tutti e a tutti. Molte volte mi sento dire, beh, ma tu parli sempre di pace, di guerra, di armi, di spese militari, eccetera. E allora mi fa piacere condividere con voi brevemente questa sera il fatto che non mi sento solo, ma direi non ci sentiamo soli, non è un pallino parlare di pace. E allora vi do l'appuntamento sabato prossimo al mattino, all'arena di Verona. Io e altri saremo fisicamente presenti dentro l'arena, credo 10, 12, 13 mila persone che rappresentano tutto il popolo della pace con Papa Francesco. TV 2000 trasmetterà una diretta di tutta la giornata del Papa e alle 10 e un quarto circa di sabato 18 maggio, sabato prossimo, ci sarà questo collegamento con l'arena di Verona. Un momento, così abbiamo scritto, di forte richiamo e impegno soprattutto in questi tempi. Ci saranno tanti testimoni, tante persone, vi cito solo Alex Zanottelli e Luigi Ciotti, ma anche tante altre persone che hanno lavorato da mesi e che lavorano per tutta la vita sui temi delle migrazioni, dell'ecologia integrale e stili di vita, del lavoro, economia e finanza, diritti e democrazia e disarmo. Ecco, allora è un incontro importante perché stiamo vivendo giorni tragici di guerra, giorni tragici per l'ambiente, per la giustizia e per tutto, che il Papa venga in questa arena di pace sabato mattina credo sia importante per sostenere l'impegno per tutti noi e anche direi per non lasciare solo Papa Francesco. Ne parliamo ancora venerdì sera, ma intanto segnatevi sull'agenda sabato 18 maggio al mattino Arena di Verona. Arrivederci.